signori still life un film molto molto carino un voto 8 e mezzo però non vi dovete aspettare una roba veloce è una cosa piuttosto lenta ma piuttosto ben fatta veramente un gran bel filmettino che in tv non passano mai perché vorrei mica scherzare vabbè vi lascerò comunque il link sotto in caso volete acquistarlo un saluto a tutti iscriviti al canale mettete mi piace ciao